Quello che va a pescare, come si chiamava? Sanpei Sanpei, come si chiamava? Aspetta, come si chiamava? Taro Purgato Taro, bravo Taro è un bellissimo ricordo perché è stato là con noi Io poi ho fatto prendere pure un po' d'olio e sono portato i suoi avverlino Sì, sì, no, anzi, bellissimo ricordo mi farebbe piacere rivederli Veramente